Io sono Enrico Salvatori e vi invito ad iscrivervi a certi diritti per sostenere le battaglie radicali, liberali, per affirmare il diritto naturale storicamente acquisito contro le leggine sporche, infami e poliziesche dei sindaci e dei nostri rappresentanti politici che sono loro a stare contro la legge. Iscrivetevi a certi diritti e state con noi per poter combattere, poter convincere e finalmente vincere da radicali e liberali. Grazie, ciao.